Grazio, riesce a battere l'Inter, a passare il turno, te l'aspettavi? Come hai vissuto questa gara? Come avete preparato? No, per noi questa partita era importantissima perché volevamo passare il turno e l'abbiamo fatto. Era una partita contro una grande squadra, loro hanno giocato molto bene, però noi siamo stati sempre dentro, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Alla fine secondo me potevamo già fare 3-4 gol in più, però abbiamo sofferto non solo in 11 in campo, però tutti, quindi quello è stato molto importante. La sconfitta che avete subito qualche tempo fa con l'Inter un po' va caricata, eravate particolarmente arrabbiati? Sì, sicuramente, però anche quella partita in primo tempo l'abbiamo fatto molto bene, in secondo tempo abbiamo mollato un po', però oggi era una nuova chance per farsi vedere dove stiamo, perché tutti dicono che contro la grande squadra noi non siamo mai, però oggi abbiamo visto che abbiamo fatto molto bene, quindi siamo molto contenti. Poi sei stata una gran bella Lazio, te l'aspettavi una squadra così oggi? Sì, questo siamo noi, però ogni tanto è un po' difficile, però se entriamo sempre in campo con queste cose, finciamo tante partite. Ci pensi già al possibile? Come? Ci pensi già al possibile? No, perché loro devono ancora giocare, quindi si può succedere tutto e noi abbiamo prima una partita domenica. E' una delle avversarie dirette per la Lazio, per arrivare in Europa, che è più forte? Non so, noi abbiamo una grande squadra, facciamo tutto per arrivare in alto, contro il Chievo abbiamo fatto una grande partita, però siamo stati molto sfortunati, è quasi impossibile di perdere quella partita se giochi un'altra dieci volte, però purtroppo è successo e dobbiamo guardare davanti, adesso abbiamo vinto questo, molto meritato secondo me, adesso arriva il Pescara e andiamo lì per prendere punti. Oggi si è chiuso il calciomercato, tu qualche tempo fa dicesti io sto facendo bene, sono cresciuto molto, più di questo non posso fare, perché comunque ci sono giocatori anche molto forti nella Lazio, hai avuto delle rassicurazioni, so che c'è stata anche un'offerta dell'Ester City per restare nella Lazio e parlate con Inzaghi? Non so, per voi questo è il cebo di mangiare, però per me, io ce l'ho incontrato con la Lazio, sono molto contento qua, sono cresciuto tantissimo, sono uno dei quattro difensori forti qua, però è normale che voglio giocare tutte le partite come Wallis, come Bastos, come De Frey, però dobbiamo stare insieme e crescere tutti insieme, così il mister deve scegliere e io non posso fare di più come sto facendo. Bene, grazie.